Benvenuti a Jurassic Park, la terra dei dinosauri, questi sono i dinosauri dell'imperiale, è composto dai DJ team, il Jurassic Park, è lo staff imperiale che è pieno di mostri, ma quanti mostri, eh? Pensa, esistevano anche i dragoni, ai tempi dei dinosauri, e poi esistevano anche i dinosauri che mettevano la musica, ve lo immaginate, questo milioni e milioni di anni fa, poi così all'improvviso scoppiò qualcosa. E allora rimase solo un dinosauro, lo sapete chi era questo dinosauro? Ora mi sta a far ridere, ma lo sapete chi era? Era Andrea Giuditta. E aveva la coda lunga lunga, e camminava, e andava verso la musica. Ma dov'era la musica, milioni e milioni di anni fa? Dove era questa musica? Dove ballavano i dinosauri? All'imperiale? Eh? Perché no? Questo, milioni e milioni di anni fa. Giuditta! Volevo dare un bacio e salutare Simone e Laura, Caselfranco di sotto. Grazie! Tutto questo alle 2.50 mattina, domenica 24 ottobre 1993 Buenos Dias, Imperial Como anda la cabeza Volevo salutare anche la Rufina, due anni senza mancare una settimana Sempre presenti Oh, Bart Simpson, ah no, Bergamo Welcome Bergamo E anche i ragazzi di San Frediano, Firenze Un saluto caro a Dario, il fratellino di Andrea Giuditta L'animazione questa notte è bionda Leslie, pedana a sinistra, centrale Rita, Francesca pedana a destra Sono le gattine imperiali Un bacio a Elisa e un augurio da parte dei ragazzi del Tracy House E la signora Poi e che non eri di Cordoba in noi